Qual è la sensazione di nadare con tanti pubblici nella costa? Diciamo che questa è la gara dove riscontro più persone che seguono questa gara perché comunque stanno con fiume c'è più possibilità di seguirla e vederla meglio la gara quindi è molto bello vedere tutto questo pubblico che ti segue e ti incita nelle altre gare invece c'è un pochino meno pubblico e qua è veramente bello gareggiare con tutto il pubblico che ti incita Tante grazie e in bocca al lupo in sua temporada Grazie Crepi, ciao